... Bene signori e signori ci siamo Prima e ultima Bene signori e signori si riprende Dove avevamo... Bene signori e signori si riprende Dove avevamo... Avevamo... Bene signori e signori bene Bene signori e signori Calma che calma Sono stati come al solito sempre puntuali e non mi sta piacendo questo video Non so che c***o devo dire mi sto allungando e la sto facendo Quando vuoi Grazie 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 Grazie